Maxi sorpresa, sei qui in Italia, sei qui a Bergamo in questi giorni? Sì, sì, sono da qua nel partito del Champions con il Manchester City, quindi c'è abbastanza tempo. Sì, sì, è felicissimo sicuramente per loro, per la società, per i tifosi, perché so quello che significa tutto questo che stanno facendo, l'hanno fatto, quindi lo seguo da New York, quindi è felice. Senti, Palomino, come sta l'Atalanta? Come sta? Sta bene, speriamo di continuare ancora un po' meglio, però stiamo bene. Adesso, sabato, riprendiamo con una partita importante, speriamo di trovarla al meglio. Però la Juventus non lascia di essere una squadra forte, è vero che giochiamo qua a casa nostra, e niente, speriamo di fare una buona partita, perché la tutta partita che noi stiamo prendendo le tre punti, allora speriamo di poter sumarli a tre. Senti, Maxi, che ne pensi di un'Atalanta-Juventus? Alla luce di come sta l'Atalanta adesso, dell'Atalanta che hai visto in Champions League? Sì, ma adesso se la gioca alla pari. Sì, credo che poi in casa sia fatto sempre forte, non si tifosi... Però, sicuramente sarà difficilissimo, perché la Juventus è grande giocatore, però credo che se la può fare.